Roma Da poche ore forse si è cessato di provare l'opera che inaugurerà la stagione. Gli ori, gli stucchi coagulano ancora l'eco delle musiche. E altre musiche già emergono dagli echi recenti e li ravvivano. Entrano per l'occhio e sono flessuose le loro linee di canto, dense e lussureggianti le armonie. Adriana Lecourreur, ma non Lescaux, si chiamano questi due modelli. E qui all'opera si sentono di casa. Miss America ha un andare da romanza entro i suoi due toni di raso verde. Tenera dolcezza. Poi i melodiosi personaggi vengono tutti alla ribalta, come dice Mozart, per finirla lietamente all'usanza teatrale.